Quando il toro entra in campo, i suoi tifosi lo salutano così. Un lungo assordante tam-tam si scatena dai popolari e giunge fino alle fiammanti maglie rosso-granata per rimanervi appiccicato per 90 minuti come fosse un impegno d'onore. Sì, qui siamo giunti al secondo minuto di gioco della ripresa. Il risultato è sempre di 0-0, un enorme drappo bianco recante un grande scudetto tricolore che è inalzato alle 16.30 secondi nel cielo dello stadio comunale di Torino, trascinato da tre grappoli di palloni granata ed è salito altissimo, seguito da migliaia di spettatori commossi che ne hanno accompagnato lungo il volo con gli sguardi. Quasi come una risposta dal cielo scenderà a fine partita, portato da paraglutisti dell'Aeroclub Torino, un altro grande scudetto tricolore che scenderà proprio al centro dello stadio comunale. Così con il lancio di questo scudetto hanno avuto inizio praticamente i festeggiamenti per la conquista del settimo titolo tricolore da parte del Torino, festeggiamenti organizzati dal centro coordinamento del club Granata. Sono presenti 70.000 spettatori, dirige Casarin, la giornata è molto calda, l'incasso è il record 220 milioni. Intanto vi diciamo che nel Torino gioca Claudio Sala, che come sapete domenica si è infortunato a Verona. Ero riduce da un infortunio a Verona la domenica precedente, dove con un tacchetto un avversario mi aveva tagliato al polpaccio. Ho dovuto essere sotturato con sette punti esterni e un punto interno, quindi la mia preoccupazione era quella di non poter partecipare a questa ultima partita. Giocare con otto punti in una gamba non è sicuramente facile, ma ho voluto ugualmente essere di questa partita perché insomma rappresentava il sogno di tanti anni della mia carriera. Io mi ricordo quando entrammo qui in campo c'era un colore solo, lo Stato era un colore tutto Granata, per cui era la prima squadra che rivencesse qualcosa di importante dopo il grande Torino, dopo la tragedia di Superga. Ancora oggi se ci pensa mi viene la toglia d'oca. Vediamo subito le formazioni delle squadre. Il Cesena gioca con Boranga, Ceccarelli, Obbi, Festa, Danova, Cera, Rognoni, Frustalupi, Bertarelli, Bittolo e Urban. Per il Torino sono in campo Castellini, Santin, Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici. Il risultato alla partita di gioco della difesa 0-0 tra Torino e Cesena, a te Ciotti. In Perugia è passato in vantaggio, rete di Curi su cross da destra di Novellino, niente da fare per Zoffe. Siamo all'undesimo Perugia 1 e il Juventus 0 a te la linea. Scusa Ciotti, questo è l'urno del Comunale di Torino che ha preso in questo momento la notizia che tu hai dato. Ecco l'urno del Comunale di Torino, ventoria di bandiere del Torino, la linea è adorata. Sì, è il Comunale di Torino, c'è la sua di testa, su classica torna a sinistra ha messo in rete il pallone che può fare iniziare veramente il conto alla rovescia per lo sudetto del Torino. Il Torino si trova in questo momento a mezz'ora esatta dalla conquista del suo settimo sudetto. Ha segnato, ripetiamo, Puligi che in tuffo davanti a Bolanga è riuscito a deviare un cross teso a mezza altezza di Graziani dalla sinistra. A te la linea. Quel gol col Cesena te lo ricordi ancora, chiudi gli occhi, te lo vedi. Quel gol col Cesena me lo ricordo, sì, c'è stato un cross lunghissimo, c'era Graziani, ha cercato lo stop, gli è riuscito male, si è allargato un po'. Come ho visto che ha alzato la testa, che metteva la palla dentro, mi sono buttato a corpo morto su questa palla un po' bassa. Rischiando. Sì, ma in quel momento penso che i rischi non esistevano, c'era solamente la voglia di fare gol per appiccicare sulle maglie col benedetto scudetto e basta. In quel momento non era Pulici che era abbracciato, era lo scudetto che stava girando per il campo, che poi il gol l'ho fatto io, non cambia niente. Se lo faceva Graziani era uguale, penso che eravamo tutti addosso a lui perché volevamo questo scudetto e finalmente eravamo riusciti a trovarlo. Pulici ha raccolto con precisione e con tempismo perfetto davanti a Bolanga con un colpo di testa in tuffo, un cross esteso a mezz'altezza di Graziani e ha insaccato sulla destra della rete delle portiere del Cesena. Penso che in quel momento se dicevano fai questo gol e poi dopo non giochi più l'avrei fermato subito. Era una cosa che si voleva talmente tanto e da tanto tempo, poi ero già quasi 7 anni, 7-8 campionati che giocavo nel Torino, quindi era un qualche cosa che avevi dentro, era come trasportare uno scudetto dal vecchio Philadelphia al comunale, alla nuova generazione. Si sposta sulla destra e inseguiti in questo momento da Pecci, cede la palla sulla destra per Frustalupi, Frustalupi in azione d'attacco cerca di lanciare i propri avanti, ecco che i difensori e c'è un'autorete, autorete da parte dei difensori Granato, un malinteso, evidentemente fra i difensori e Mozzini, ha messo la palla in rete, Mozzini con un colpo di testa ed è consolato in questo momento da Castellini, è stata una vera disavventura, c'è stato un lancio verso gli attaccanti da parte di Frustalupi, due difensori, Stansi Caporale e Mozzini stavano inseguendo con lo sguardo naturalmente anche i due giocatori e areggiando verso la loro porta, il pallone è andato quasi a battere sulla testa di Mozzini e è entrato in rete, pertanto il Cesena ha pareggiato esattamente al 27esimo di una ripresa, la situazione più è mutata, 1-1 fra Cesena e Torino a Pecci. Eravamo già abbastanza sicuri, però è stata una partita terribile perché non finiva mai, non riuscivamo a dare più calcio a questo pallone perché forse probabilmente l'emotività e il sentimento che avevamo dentro era grosso, per cui non eravamo molto presenti sul campo. Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro, Torino campione d'Italia, dopo 27 anni un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. Devo dire che forse lo scudetto l'avevamo vinto soprattutto nelle altre 29 partite, peccato perché vincere quella partita avrebbe rappresentato un record perché avrebbe voluto dire vincere tutte le partite in casa, purtroppo la paura non ce l'ha permesso. Bene qui al comunale di Torino, Torino si è diviso in un forzo in quasi interrotto dall'inizio dell'incontro, ma tradito forse dalla foga dei suoi attaccanti di pervenire assolutamente al successo, ha mancato numerosissime occasioni, soprattutto con Graziani, ma non ha fallito Pulici l'occasione che gli si è presentata al sedicesimo. Un cross da sinistra di Graziani, numero 11 Granata in tuffo, ha battuto imparabilmente Boranga di testa. Luz Ameri, finale anche a Perugia, Perugia batte Juventus 1-0 a terra linea. Bene, io non posso altro che dirvi che qui al comunale di Torino stanno per iniziarsi i grandi messaggiamenti organizzati dal centro di coordinamento dei Granata Club. I giocatori sono al centro campo, non c'è stata nessuna invasione, tutti con perfetta disciplina stanno attendendo appunto la grande festa a te e Bortolucci. Il tifo qui oggi è stato veramente indescrivibile da parte di questi 75.000 spettatori. Si è stato il tutto esaurito, il tifo è diventato incandescente dopo il decimo minuto della ripresa quando è giunta la notizia che la Juve stava perdendo a Perugia. Poi c'è stata la rete scudetto, chiamiamola così, di Pulici, Pulici che ha vinto la classifica dei cannonieri ancora una volta. A quel punto il tifo è ulteriormente cresciuto a suon di petardi, coriandoli. Vedete ancora in questo momento che cosa sta succedendo. E ora stiamo assistendo a delle scene veramente indescrivibili da parte del pubblico. La vera invasione non c'è stata, perlomeno è un'invasione abbastanza pacifica e limitata. I 75.000 sostanzialmente se ne stanno sugli spalti, anche grazie al perfetto servizio d'ordine. Stanno girando sulla pista del comunale di Torino tutti i giocatori, come vedete, tenendo su il tricolore. Il presidente Pianelli, quasi portato di peso, se così si può dire, dato la mole non comune del presidente Pianelli, è dovuto, dicevamo, ripiegare immediatamente negli spogliatoi, sorretto da carabinieri e da amici in preda a un'emozione grandissima. Io credo che a questo punto possiamo concludere il nostro collegamento dallo stadio comunale di Torino, dove il Torino è campione d'Italia dopo 27 anni. Il nostro collegamento da Torino è terminato. Grazie Castellotti, le immagini e le parole del collega gli hanno portato l'atmosfera del Torino dopo tanti anni tornato alla gioia dello studente.